Grazie. Bene, allora che dici? Iniziamo Marco? Perfetto. Sì, se possiamo chiudere la porta così iniziamo. Allora intanto grazie a tutti voi per la presenza, per la vostra partecipazione. Ringrazio anche i giornalisti che sono presenti e ovviamente ringrazio i relatori qui presenti che presenterò a brevissimo. Allora, parole guerriere è una parte del titolo di questi nostri seminari rivoluzionari di filosofia, l'abbiamo voluti chiamare così. Io sono Dalila Nesci, lo sapete, sono una parlamentare del Movimento 5 Stelle e ho voluto insomma proporre questa iniziativa che è stata ben accolta un po' da tutti. Infatti voglio salutare i qui presenti senatori Lucidi, Bulgarelli, Morra che è appena andato via, quindi ci sono anche dei colleghi che hanno apprezzato l'iniziativa. Voglio subito dire che non abbiamo inteso proporre un festival filosofico alla Camera dei Deputati, anche perché non sono una filosofa, lo dico subito, ho solo conseguito una laurea in giurisprudenza. Ne abbiamo voluto riportare il salotto televisivo in questa sede, anche perché spesso i salotti televisivi al loro interno dibattono filosofi, molto spesso amici del potere o comunque di chi comanda, quindi non vogliamo assolutamente replicare cose che avvengono in altre sedi con altri format. Mi volevo soffermare sul termine rivoluzionario, perché è un termine che non si usa forse neanche più. A proposito vorrei ricordare uno che per noi è stato un rivoluzionario, un visionario dal quale abbiamo ereditato e continuiamo ad ereditare idee ed utopie, e quindi voglio assolutamente ricordare in questa sede Gianroberto Casaleggio, che è stato un uomo schivo, umile, profondo, che ha sempre creduto nell'importanza della rete come strumento di condivisione delle idee, dei saperi, e come è anche possibile strumento di una democrazia allargata il più possibile. E poi, scusatemi, ma devo anche ricordare un altro rivoluzionario che ha dato anche ispirazione al titolo di questa iniziativa, che è Beppe Grillo, che in momenti lontani aveva denunciato la truffa del debito pubblico, le speculazioni delle multinazionali, dell'alimentazione, delle comunicazioni e della sanità, quindi lo ringrazio anche per averci sempre dato questi spunti visionari importanti, perché nel febbraio 2013, davanti ad una piazza gremita, Grillo a Roma, proprio pronunciò delle parole, dei pensieri, voglio citarle, lui disse così, poi abbiamo sentito un flusso di parole e di pensieri che veniva da chissà dove, da fuori, da dentro, dalla rete, dalle piazze, erano parole di pace, ma allo stesso tempo parole guerriere, parole guerriere capaci di determinare, spiego Grillo, una rivoluzione democratica, non violenta, che sradica i poteri, che rovescia le piramidi. E quindi noi abbiamo compiuto questo azzardo dentro questi palazzi, abbiamo voluto seppellire il pettegolezzo politico del tanto caro al mainstream e abbiamo cercato di concentrarci sulla parola, appunto i greci avrebbero detto logos, perché oggi il discorso politico alla Renzi Maniera è fatto di slogan, di effetto, di propaganda, così come vanno tanto di moda ai discorsi tecnocratici, di dati, di numeri, però poi nulla che ha a che fare davvero con il sentimento delle persone, con i bisogni delle comunità. Allora, grazie anche a questa iniziativa vogliamo farci tutti quanti delle domande e quindi è bello stasera condividerle con voi e chiederci quindi se è possibile davvero cambiare registro, se il cuore e i sentimenti possono ancora trovare posto nel progetto della politica e se sotto la denominazione della filosofia non ci sia soltanto un diletto o un vezzo, ma se davvero la crisi contemporanea non sia prodotta da un vuoto di pensiero, da un pensiero debole, che non è quello del professor Vattimo, ma proprio quello della rinuncia, della rassegnazione che ci viene spesso imposto e per sciogliere questi nodi, quindi per concorrere ad arricchire di stimoli, di contenuti l'alternativa culturale che il Movimento 5 Stelle sta contribuendo ad alimentare nell'intero Paese. Abbiamo pensato a tre momenti di riflessione, uno è questo di oggi, sulla forza delle idee e poi ce ne saranno due a settembre, vi comunicheremo anche le date, rispettivamente sul ruolo dell'intellettuale per l'azione politica e sulla questione morale nella società della trasparenza. Quindi riteniamo che tutto ciò sia utile, mi piace usare questa espressione per riempire lo spirito, avere nuove spinte, nuove motivazioni, noi qui all'interno di questi palazzi ne abbiamo bisogno davvero tanto, di allargare la nostra mente, i nostri sentimenti e quindi sono felice di aver incontrato nel mio percorso anche il professor Marco Guzzi. Il nostro sforzo oggi è quello di offrire questi contenuti di profondità sul presupposto, che qualsiasi legge, qualsiasi scelta del potere e soprattutto di qualsiasi orientamento di massa ha alla base un'idea. Voi lo sapete, noi abbiamo sempre detto che non esistono più le vecchie ideologie dei partiti di centrodestra e di centrosinistra, ma la nostra vita e il nostro mondo contemporaneo è assolutamente intriso di ideologie, inteso come appunto idee di massa e per questo motivo l'incontro di oggi parte dalla suggestione letteraria del testo di Hillman, La politica della bellezza. Una raccolta di saggi che vanno nella direzione appunto del sentire, del rapportarsi con gli spazi del nostro vissuto e con la dimensione dell'altro. Hillman scrive, nel nostro tundimento psichico non siamo nemmeno mummie o zombie, perché non siamo stati nel mondo infero, nella terra dei morti, siamo semplicemente nella caverna di Platone, drogati, bloccati, ottusi. Il mio appello allora non è tanto quello classico svegliati e guarda, ma piuttosto è senti. Quindi punto di partenza è proprio il sentire, il riconoscere il bello nei nostri itinerari quotidiani, questo è un elemento chiave per per l'attivismo politico e Hillman ci spinge proprio ad un intervento diretto per migliorare la bellezza anche dei nostri viaggi, cioè di richiedere alle nostre città ciò che si cerca nei viaggi esotici, una diversa dimensione e qualità della vita. Il libro di Hillman ci dice che tra la psicoanalisi e l'ambientalismo c'è la politica, dove la psicoanalisi serve a curare o comunque ad arginare l'individualismo, il protagonismo, l'ambientalismo a proteggere i nostri territori e la politica ci dovrebbe aiutare a ricostruire il senso di comunità, quindi ad abbandonare quel senso di alienazione che purtroppo fa parte di noi, fa parte del mondo contemporaneo. Una quindi delle attesi principali di Hillman è proprio che la bellezza lungi dall'essere un ornamento che deve nascondere qualcosa di profondamente brutto sia invece un principio da mettere in pratica nella vita di tutti i giorni e speriamo con questo ciclo di incontri di contribuire a questa bellezza, una bellezza che va ricercata anche fuori da se stessi, poiché l'uomo è un essere relazionale, dialogico e quindi la propria identità non si può costituire chiudendosi al riccio, chiudendosi appunto nei propri compartimenti, ma aprendosi al mondo inteso appunto come comunità in assoluta condivisione e sostenibilità ambientale anche. Quindi io direi di procedere, sono molto emozionato per questo ho voluto leggere un appunto però. Vorrei subito iniziare questo nostro seminario con una testimonianza politica diretta e quindi passerei la parola a Roberto Fico che è presidente della commissione di vigilanza RAI, la sua è una lunga e profonda storia nel Movimento 5 Stelle, un impegno forte e costante sul territorio campano depredato da criminalità e malaffare ma ricco di storia, di arte, di cultura, di natura e creatività. Poi procederemo con l'intervento del professor Marco Guzzi, molti di voi lo conoscono, siamo in streaming quindi è giusta una presentazione formale. Marco Guzzi, filosofo eppure docente di filosofia della Pontificia Università Salesiana, poeta, scrittore, autore e conduttore di programmi radiofonici, il quale ci parlerà del senso di un riscatto del pensiero politico, quale reazione necessaria al vuoto di pensiero che il potere ha imposto. Poi ci saranno spazio per gli interventi e le domande che pregherei già da adesso di essere brevi così possiamo insomma usufruire meglio della loro presenza e quindi consentire un dibattito aperto. Grazie, la parola a Roberto Fico. Buon pomeriggio a tutti. Ringrazio anch'io, Dalila, per aver organizzato questi incontri, questo ciclo di incontri perché secondo me possono essere molto interessanti anche un punto di partenza per discutere la politica anche in una forma un po' diversa, visto che siamo sempre abituati alla discussione in una forma o di contrasto ma poco di tavola rotonda e poco di riflessione che secondo me poi diventa quello il sale vero per costruire una politica che sia diversa anche dal punto di vista e soprattutto dal punto di vista culturale. Ormai sono quattro anni e più che siamo e che sono in Parlamento e dopo ormai quasi una legislatura intera e non pensavo mai che arrivasse ad essere una legislatura completa perché all'inizio c'era il governo Letta, poi Renzi, poi Gentiloni, pensavo ampiamente che cadesse prima il governo e cadesse prima la legislatura. Arrivati a quasi cinque anni di legislatura io sento di poter trasferire una cosa che ho molti più dubbi e meno certezze rispetto a quando ero entrato qui. Cioè essere in Parlamento per quasi cinque anni mi ha innestato molti più dubbi anche nella percezione e nella costruzione della verità. Quello che io davo per assodato un po' prima fuori dal Parlamento, entrarne dentro è come vedere una montagna da sotto, da dentro e quindi la percezione anche del generale, la realtà, della verità. È molto più complicato mantenerla e tante convinzioni anche un po' mutano, cambiano. Convinzioni da un punto di vista anche proprio dell'esistenza stessa delle istituzioni, del loro funzionamento. Come poterle portare avanti nel modo giusto? Come una legge può avere effetti poi nella sua applicazione nella realtà? Come si lavora con i ministeri, con gli uffici legislativi, con i funzionari, con la burocrazia? Dove c'è un sistema che in ogni caso cerca di proteggersi, di andare avanti. Perché qui abbiamo tantissime persone che lavorano a tempo indeterminato, di tantissimi dirigenti che hanno fatto il bello e il cattivo tempo al di là del ministro all'interno dei ministeri e quindi della politica italiana. Ci sono i decreti attuativi, ci sono i regolamenti e facciamo tantissime leggi e di queste leggi magari moltissime poi non vanno neanche a buon fine, al di là che siano giuste o sbagliate le leggi, ma proprio come processo poi che si cala nella realtà. E allora vengono tantissimi dubbi. Oggi vedo un mondo che va molto veloce per tantissime cose e un mondo che è quello parlamentare che va lentissimo per tutte le altre. Cioè noi oggi non riusciamo a sincronizzare secondo me la realtà sociale che c'è fuori rispetto alla realtà che il Parlamento cerca di costruire e soprattutto il tempo in cui noi facciamo e misuriamo proprio le leggi è un tempo in cui invece fuori queste leggi magari sono già state superate. Io faccio sempre un esempio molto banale su questo. Se oggi Google ti inventa un nuovo algoritmo Facebook, un nuovo modo all'interno di Facebook di comunicare o di fare alcune cose, di fare marketing o di fare economia, dall'altro lato il Parlamento magari ha bruciato cinque anni di lavoro. Perché? Perché non è un Parlamento che cerca di prevenire il futuro, gestire il futuro e così quando arrivi il futuro tu lo puoi gestire e ti diventa un'opportunità ma spesso lo subisce perché è continuamente preso o da emergenze o da lotte interne agli stessi partiti politici che non hanno niente più a che fare con la politica. Allora quello che mi fa venire fuori, cioè quello che io sento come dubbio principale dopo questi cinque anni è quando è che un Parlamento ha davvero il tempo di riflettere con la propria comunità non solo di riferimento ma con la comunità tutta rispetto a quello che dobbiamo essere tra vent'anni. Non c'è mai un disegno organico su quello che noi dobbiamo essere tra vent'anni. Noi come Movimento da questo punto di vista ci stiamo un po' provando e ci stiamo provando per esempio con il Piano Energetico Nazionale che ha disegnato un mondo da qua fino ai prossimi vent'anni rispetto a uno dei fattori principali di cambiamento di una società che è quello energetico. Le società cambiano per due tipi di fattori l'energia e la comunicazione e in questo momento tutto sta cambiando rispetto a questi due piani e se il Parlamento con le proprie leggi non riesce a recepire questi cambiamenti li subirà e così subiremo in modo metaforico in questo caso faccio un paragone con quello che sta succedendo sul Vesuvio subiremo gli incendi perché non abbiamo fatto prevenzione, perché non abbiamo costruito un altro tipo di realtà, perché non abbiamo investito dei soldi della comunità magari per comprare più aerei che possano spegnere il fuoco, più elicotteri per gestire meglio le dinamiche che si muovono intorno ad alcuni territori. Al di là del fatto che le cause sono dolose degli incendi però possiamo comunque cercare di prevenirli in un altro modo e questo significa anche lavorare molto più in uno stato armonico rispetto al pensiero che noi dobbiamo costruire. Quando noi diciamo che il Movimento 5 Stelle non è un partito politico è quello che noi aspichiamo e quello che noi speriamo, ovvero io diciamo così il Novecento in qualche modo è concluso. E i due grandi blocchi opposti di sinistra e destra forse oggi nella nostra postmodernità e in un mondo che è postideologico e lo vediamo anche da come si muove probabilmente possiamo dire che sono divisioni identitarie che non hanno più senso. Prima molti si trovavano nella costruzione della propria identità in opposizione a un altro modello e un altro sistema. Io a 18 anni, 19 anni, 20 anni costruivo la mia identità che era più come valori di sinistra rispetto a dei valori di destra e sentivo che la costruivo comunque anche in opposizione e trovavo lo spazio della mia identità perché era anche in opposizione a un'altra identità e ci si scontrava o ci si incontrava su alcuni punti e si andava avanti in questo modo. Essendo un po' morte, così come le abbiamo conosciute le ideologie e adesso agiamo quindi in una postmodernità, il Movimento 5 Stelle non voleva essere un pezzo di un'altra ideologia o un pezzo di un altro partito che arrivava in Parlamento e aveva la sua fetta di parlamentari e in quello spicchio diventava il nuovo partito politico. Si pensava di agire molto più fuori, come se fosse un pensiero trasversale, come se fosse un punto fuori dal quadro, più per unire i cittadini e farli fare e fare insieme un altro tipo di riflessione che non fosse all'interno dello scontro c'è il PD, c'è il Movimento 5 Stelle, c'è Forza Italia, la Lega, ma che agisse proprio in un altro piano e quest'altro piano doveva essere e deve essere la rivoluzione culturale che uno sta cercando di costruire in tutto il Paese. Una rivoluzione culturale si affronta con i contenuti con il pensiero, con la cooperazione, con un io che è molto più collettivo piuttosto che individuale, mettendo anche un poco in discussione i propri parametri di riferimento, le proprie ideologie, mettere in discussione se stessi. Il Movimento era un po' mettere in discussione se stessi il modo in cui fino ad oggi si è vissuto per costruire non un altro partito ma un'altra società. Il Movimento oggi può morire se costruiamo un altro partito, vive come gli altri partiti se no. Se costruiamo invece un altro modello di società anche tramite il Movimento 5 Stelle allora a questo punto avremo segnato davvero una strada. Questa secondo me è la grande sfida in generale che ogni movimento che può essere definito rivoluzionale a volte è un po' banale come parola perché è abusata, comunque è un movimento di moto continuo, possiamo definirlo così, è il punto in cui ci si trova sempre ad affrontare in qualche modo la stessa questione. Si arriva a un punto e bisogna comprendere come superare e come andare avanti rispetto a questo punto. Perché le istituzioni sono anche un muro altissimo e quando arrivi anche con tutta la forza di moto continuo, perpetuo, rivoluzionario che un qualsiasi movimento ha, si arriva a scontrare con un muro che è fortissimo, che è fatto di burocrazia, che è fatto di processi legislativi, che è fatto di un mondo che nel modo in cui vive davvero assomiglia più a un mondo ottocentesco che al mondo attuale. E quindi mentre si parlava esclusivamente di rete, di cooperazione sul territorio, magari di autoproduzione, economia del vicinato, come poter liberarsi anche dal lavoro fatto in un certo modo ed acquisire più tempo per la tua vita nella quotidianità, la tua costruzione del diritto alle felicità, si inizia a parlare anche qui dentro di tutt'altro, in un altro modo, nelle commissioni che ti invecchiano in qualche modo, come se questo posto a un certo punto invecchiasse. Allora ci vuole un'altra avanguardia che va più avanti di te e che prende il testimone nel punto dove tu l'hai lasciato. E bisogna trasferire, secondo me, questi concetti, bisogna trasferire questa modalità anche di pensiero per le persone che poi verranno. Oggi le istituzioni hanno senso? Sì, hanno senso, perché hanno un senso molto importante. Oggi la RAI come comunicazione per dire ha senso? Sì, secondo me ha un senso nei momenti in cui è libera e indipendente e diventa un servizio pubblico fatto ai cittadini. Così il Parlamento ha senso se è un servizio pubblico che è fatto esclusivamente in interesse collettivo. Però è vero anche che tutto quello che avviene oggi nel nostro Paese non avviene per colpa di una forza politica o per colpa di una persona, perché sarebbe troppo limitante anche dire così, che una persona ha la colpa di tutto e anche dargli troppa importanza. Se un partito ha colpa di tutto è dargli troppa importanza. È un po' perché sono le modalità che si sono mosse nel nostro territorio, che si sono mosse nei nostri comuni, nella nostra visione di Paese, che si è mossa nell'individualismo di cercare la via più breve per fare le cose in una forma più semplice e più rapida. Si è mossa nella nostra crisi occupazionale, si è mossa nel nostro modo purtroppo oggi in questo Paese di essere criminalità organizzata. Cioè noi non dimentichiamoci neanche questo, che noi siamo un Paese che ha Camorra, che ha Andrangheta, che ha Sacra Corolla Unita, che ha mafia e che queste associazioni criminali vivono soprattutto sullo spaccio e la vendita di stupefacenti. E lo spaccio e la vendita di stupefacenti è niente di più e niente di meno che è un'offerta che deriva da una domanda che tutti noi facciamo. Dico noi, non dico tu io, però dico tutti noi facciamo. E quindi ci sarà il Ministro che si farà arrivare la cocaina, ci sarà l'operaio che sul cantiere che lavora 12 ore si prenderà la cocaina, i ragazzi che si prendono il fumo, che si prendono l'MD e le pasticche nelle discoteche e tutta questa droga che sono tonnellate di tonnellate di tonnellate di tonnellate arriva nel nostro Paese, dalla Colombia, dalla Bolivia, dall'Afghanistan e lo importano le principali organizzazioni criminali, ma le importano per far sì che noi abbiamo una droga che risponde esclusivamente alla nostra domanda. Dico questo perché è tutto collegato, cioè non c'è niente mai di scollegato. La cosa che più vedo io oggi nella società italiana e nella società occidentale, che parliamo sempre con compartimenti stanni, pensiamo che le cose siano tutte scollegate dall'altro e andiamo per settori, quando secondo me i settori non esistono, ormai esiste solo un sistema di settori che è collegato l'uno all'altro e se non ragioniamo in questo modo non riusciamo poi a capire né le cause e né a trovare le soluzioni ai problemi, perché se io agisco qui è chiaro che la mia azione avrà una razione in un altro punto, in un altro settore. E allora oggi, faccio un esempio banale, se mi compro un vestito che non è certificato in un certo modo, sarà sicuramente e probabilmente fatti dai bambini nel Bangladesh che prenderanno quelli 50 centesimi al giorno e noi abbiamo il nostro vestito a poco prezzo perché comunque abbiamo un reddito magari basso e vogliamo le cose a meno prezzo, però quello è il prezzo da pagare se vogliamo le cose ad un minor prezzo, ovvero che un bambino dall'altra parte del mondo sta facendo un certo tipo di lavoro e di mestiere magari a dieci anni e così se oggi il ragazzo di 14 anni si compra marijuana, si compra fumo, si compra hashish o il ministro si compra la cocaina, questo ha un effetto di finanziamento di milioni e milioni e milioni e miliardi di euro alle criminalità organizzate che investiranno poi in economia legale. In economia legale quindi avremo i parcheggi privati a Milano che sono in mano all'Andrangheta, avremo il movimento Terra a Modena e in Emilia che sarà in mano alla Camorra e avremo così soldi riciclati in un circuito legale e avremo in Europa che man mano sarà colonizzata dagli unici che hanno i soldi liquidi per investire che sono le criminalità e così sarà in Edimburgo e così è già in Costa Brava, in Spagna. Questo per dire che dobbiamo sempre pensare al risultato delle nostre azioni e io credo che questa sia la politica più alta, pensare al risultato delle nostre azioni e pensi al risultato delle nostre azioni anche quando devi essere in Parlamento. In Parlamento lo devi pensare nel modo più grande e il Parlamento deve poter riflettere sulle proprie azioni e sulle leggi verso cosa portano e in che direzione portano e io credo che questo Parlamento ha sempre poco spazio per riflettere, sempre poco spazio per pensare. Se tu non stimoli il pensiero, il dibattito vero, al di là delle contrapposizioni ma proprio sulle questioni e sui temi, analizzandole a 360 gradi, facendo partecipare anche la comunità con riflessioni, non vai da nessuna parte. Farai sempre leggi miopi anche mettendo di base la buona fede, ma sarai sempre un miope che si muove al buio come una persona che non vede bene. Allora è questo che noi dobbiamo cercare di cambiare, non è tanto una legge ma è cambiare il meccanismo e cambiare il meccanismo è l'altra vera sfida culturale che come Paese noi dobbiamo provare a fare. Non è facile cambiare il meccanismo e da queste riflessioni dopo tanti anni io all'interno del Parlamento oggi posso dire che ho molti più dubbi e meno certezze. E questa per me è una bellezza che volevo anche trasferirvi perché il pensare e comunicare insieme secondo me è la bellezza della politica e la politica poi della bellezza. Concludo qui. Grazie Roberto. Grazie. Quindi da parte nostra c'è questa consapevolezza che c'è un vuoto nel discorso politico che rischia sempre più di allargarsi e a volte anche inconsapevolmente o per una serie di dinamiche veniamo tutti quanti tirati un po' dentro. Allora Marco Guzzi ci aiuterà a capire se ancora fa in tempo il pensiere politico a riscattarsi, a reagire a questo vuoto di pensiero che avanza. Beh insomma ci proviamo a dire qualche cosa. Ecco tanto grazie. Grazie perché già le parole che abbiamo sentito da Dalila, da Roberto Fico credo che non siano comuni nel discorso politico ordinario al quale siamo abituati e credo che immaginare e realizzare comunque dei seminari rivoluzionari di filosofia qui a Montecitorio è un gesto già secondo me coraggioso. Coraggioso, nuovo e quindi rivoluzionario perché nuovo e credo ci vuole coraggio perché non siamo abituati a questo linguaggio, non siamo abituati a sentire parole come filosofia, bellezza, rivoluzione nell'ambito del discorso politico, siamo abituati ad altre parole, valanghe direi di paroline, non parole guerriere ma direi non so come le potremmo dire, parole castrate, parole insignificanti, manovrine, paroline, paroline che per carità anche loro hanno naturalmente il loro senso ma certamente andrebbero messe nella loro dimensione, cioè non si può passare anni e anni a discutere tutti i giorni nei talk show sulle manovrine, su Renzi che va con Bersani, Bersani che va con Orlando, le tresche, sono tresche di liceo, con chi va quello, con chi va ci andrà? Salvini è con voi? Questo è il dibattito, ascoltiamo per ore, per ore, per ore, mentre sappiamo che è in corso la sesta estinzione generale sul pianeta, dopo 65 milioni di anni, stanno scomparendo 200 nuove specie animali, mentre accade questo nel mondo, i talk show, i TG ci intrattengono per ore su queste piccole questioncelle che uno dice ma perché? Cioè è, come dire, un'insipienza o una strategia? Perché, voglio dire, io non posso pensare che tutti quanti i giornalisti, commentatori, siano così distratti da non accorgersi che c'è un caos nel mondo e nelle anime, c'è una disperazione profonda nelle anime degli uomini di cui nessuno parla, nessuno parla, noi facciamo dei gruppi per cui noi comunichiamo tra noi fuori dalle maschere, quindi che cosa troviamo? Troviamo un'enorme crisi di significato, crisi di identità di cui nessuno parla, eppure sarebbe bellissimo che anche i talk show si occupassero di cose più reali. Quindi, quando per la prima volta io ho sentito parlare Grillo, questo è un libro interessante, ho sentito che diceva, qui non stiamo parlando di sostituire una classe politica con un'altra, qui stiamo parlando di questioni generali, di problemi mondiali, di come riprogettare la vita e per fare questo ci vuole un pensiero, non basta la politica. Allora io ho detto, beh, meno male, meno male, a prescindere da tutto quello che altro potrà pensare, ma già dire questo, riaprire un campo di riflessione a questo livello è una novità assoluta, come dire, ci ridà una speranza, possiamo riprendere a pensare? Possiamo riproporre in ambito politico un discorso più complesso? Possiamo azzardarci a criticare un sistema globale di mondo che è evidentemente schizofrenico, che ci dice in un momento che il mondo sta andando alla deriva, che c'è il clima che si sta corrompendo, che stiamo andando nella desertificazione in intere aree e poi consigli per gli acquisti, comprati la nuova automobile, mangiati il pollo, poi ti fanno vedere il servizio, in cui ti fanno vedere come sono allevati i polli che ti viene da vomitare, poi consigli per gli acquisti, mangia del pollo, quello lì, cioè è una schizofrenia, si può dire questo? Allora possiamo di nuovo dirlo senza essere subito accusati di essere complottisti? Uno dovrebbe dire, ma chi è che accusa di complottismo? Uno ha il sospetto che siano quelli che fanno i complotti, cioè quelli che realmente fanno i complotti, accusano chiunque, dica ma forse c'è qualcosa che non va di essere un complottista, è facile, però alla fine questo gioco mi sembra che si stia smascherando, forse chi veramente fa i complotti che gestisce il potere in questo mondo e sappiamo che c'è, ci sono ricerche, adesso non entriamo nel merito, incomincia a vedere che il controllo non è più totale, c'è la rete, ci sono altri canali di informazioni, le persone incominciano a non obbedire a tutto quello che Tg1, Tg2, Tg3, Tg4, Tg5, Tg7, Tg7, tutti uguali, più o meno tutti uguali, ma è possibile che sono tutti uguali? Cioè è possibile che io cambio il canale dal Tg1 al Tg5 e hanno la stessa notizia nello stesso minuto? Ma com'è possibile? sono geniali, o si accordano, come io credo, oppure sono maghi, quindi le parole di Grillo ci hanno ridato la speranza che si potesse incominciare a contestare un sistema di mondo mercificato, schizzoide, corrotto, senza essere subito risucchiati, come diceva giustamente Fico, nelle vecchie e tragiche storie del ventesimo secolo che non funzionano più. Abbiamo di nuovo sperato che si potesse affermare senza mezzi termini che per molti aspetti qui andiamo ovviamente per sommi capi, io spero che questo sia l'inizio di un grande cammino di riflessione che si apra nuovo in Italia e anche in Europa, ecco si possa dire senza diciamo troppi mezzi termini che questo mondo globalizzato per molti aspetti è in mano ad una oligarchia finanziaria, politica e culturale spietata. Lo possiamo dire? Ecco, leggo qui Casaleggio, sempre in questo dialogo, dice il capitale ormai vince sulla democrazia che sembra essere solo un intralcio, una perdita di tempo. Il capitale ha altri tempi più veloci, non vuole regole, mette i suoi rappresentanti nelle istituzioni. D'altra parte ragazzi, questo, quest'idea è comune alla grande cultura occidentale presente, cioè quelli che ancora pensano in Europa e nel mondo dicono questo con chiarezza, ecco io vi ho portato una citazione di un autore che certamente non è né massimalista né complottista, ma è Habermas, cioè sicuramente il filosofo della politica più famoso in occidente, nell'occidente europeo perlomeno, moderato, socialdemocratico se vogliamo, e lui in una delle ultime interviste del 2016 dice il capitalismo finanziario globalizzato e autonomo si sottrae ampiamente all'intervento del politico, nella nostra società globalizzata e sempre più interdipendente. Dietro il paravento della democrazia, le élite politiche mettono in opera, in maniera tecnocratica, gli imperativi dei mercati senza offrire praticamente alcuna resistenza. Questo è Habermas ragazzi, non è un complottista della rete. Quindi se le cose stanno così e stanno così, c'è un'indagine dei matematici dell'Università di Zurigo che hanno individuato il cuore del potere economico finanziario del mondo che è costituito da poche grandi corporation internazionali, in gran parte anglosassani o americane. Sappiamo, è così e sappiamo bene che poi queste grandi strutture economico-finanziarie che controllano la politica controllano i mass media, sono proprietari delle case editrici, dei giornali, ecco perché dicono tutti la stessa cosa. Anche questo però sta crollando, sta crollando grazie a Dio. E loro lo avvertono, lo avvertono, lo vedono i dati dell'audience. Ormai questi talk show hanno il 3-4% di audience, su un audience che comunque ormai è sotto il 50%, la gente vede altro, sono residui senili che guardano queste cose e spesso anche con sospetto. Ecco perché questo è un momento opportuno e pericoloso, perché loro se ne stanno accorgendo che sfugge di mano il controllo totale e quindi non sappiamo che cosa stanno pensando per rimettere in ordine le cose, capisci? Ecco, bisogna stare molto in campana. Quindi, alleluia, alleluia, magari è un minuto, ecco è un minuto, un kairos poi non ci sarà più, però intanto lo possiamo dire ora, possiamo denunciare la bruttezza, la violenza di questo sistema che è prima mentale che politico, è mentale. Ecco perché ci vuole una lotta di pensiero. Noi dobbiamo confutare l'antropologia, la filosofia che c'è dietro, che è quella di un uomo atomizzato, di un uomo macchinetta, automobile, un omuncolo, pieno di brame, che vuole accaparrare, pieno di terrori, che poi ha bisogno di compensare con droghe tutta la sua disperazione. Dobbiamo confutare questa antropologia perché è falsa. L'uomo è altro, può essere ben altro, è tempo che sia ben altro, è possibile essere altro. Dobbiamo anche dire che questo sistema, che è un sistema di potere finanziario e politico ed economico, se regge è anche perché c'è un collaborazionismo molto vasto dell'area intellettuale e culturale. Molto vasto, anche questo è ben organizzato, cioè ti fanno vedere solo quegli, virgolette, intellettuali, virgolette, scrittori, virgolette, doppie, filosofi, che non sono filosofi ma sono misosofi, cioè odiano la sapienza e quindi sono assolutamente funzionali all'imbecillità che si vuole dominante nel popolo, perché un popolo imbecille, specialmente imbecille vuol dire debole, imbelle, svuotato, disperato, che non ci crede più in niente, quello è un ottimo, un'ottima mandria, un'ottima mandria da governare. Quindi noi dobbiamo anche passare ad una denuncia del collaborazionismo intellettuale, secondo me, denuncia non violenta ma denuncia, perché anche qui non bisogna confondere la violenza con la forza guerriera della denuncia, sono due cose diverse. Gesù Cristo era un uomo probabilmente non violento, credo, ma era un uomo durissimo nella denuncia, durissimo, tant'è che lo ammazzano. Se fosse stato mansueto, stava ancora qua a farsi il gruppi, che gli è in porta, anche Giovanni Battista, per esempio, prendiamo Giovanni Battista, se avesse pensato di fronte ad Erode, Erode che stava con una donna che secondo Giovanni Battista non era opportuna, se avesse pensato ma chi sono io per giudicare? E se stava tranquillo, invece di andare sotto le porte di Erode a dirgli, non devi stacco questa, avrebbe perso la testa? Probabilmente no, è che talvolta la voce profetica, cioè il pensiero, non può non dire, non può non dire, ma sai quanto avrebbe voluto non dire lui, magari se ne stava tranquillo nel deserto a mangiare le locuste? E invece no, deve andare là, rompe le scade a Erode, che poi le dai alla testa, cioè non è carino, però purtroppo a mio parere va fatto. Ecco, il primo punto che io vorrei sintetizzare è proprio questo, noi secondo me oggi non solo possiamo, ma dobbiamo pronunciare ad alta voce parole guerriere, cioè parole di vera pace, perché la pace non è una melenza mascheratura dei crimini contro l'umanità che sono in atto, quella non è la pace, quella è collaborazionismo, appunto criminalità, la vera pace è quella che denuncia il male fino al martirio, quella è la costruzione della pace e questa cosa oggi è rivoluzionaria e richiede a mio parere una funzione politica. Cioè non basta che sia la voce intellettuale profetica che dice questo, ce ne sono qualcuno, ma oggi è tempo, io lo spero, che questa rivoluzione culturale di cui parla perfino il Papa, perfino il Papa parla di rivoluzione culturale, coraggiosa rivoluzione culturale, ecco, deve assumere anche caratteri, forza, espressione politica. E certo non saranno, temo, i partiti cosiddetti di ispirazione cristiana a essere promotori di questa rivoluzione, perché se pensiamo che i rappresentanti di questo movimento cristiano in Europa si chiamano, non so, Merkel, Juncker, Taviani, Renzi, ecco, non sono proprio delle figure che mi danno l'idea di essere animati da uno spirito profondamente rivoluzionario e antisistema, non mi viene proprio. Io credo che noi dobbiamo questo, dobbiamo impegnarci in questa allegra rivoluzione democratica, allegra, capite? Può diventare una cosa divertente, perché uno pensa alla rivoluzione, pensa, non so, alla rivoluzione francese, il terrore di Robespiero, oppure, non so, alla rivoluzione d'ottobre, la violenza, ma non sarà così. La rivoluzione che abbiamo davanti e che vogliamo vivere è tutta un'altra cosa, è diversa e dovremmo capirlo, vivendola, come diceva Battisti, no? Lo capiremo vivendola, non è preconfezionata, è un movimento, è bello quello che ha detto Fico, cioè la rivoluzione come un movimento è una rivoluzione permanente, come si sarebbe detto, cioè è un movimento permanente di trasformazione. E questo è ovvio che ha bisogno di luoghi di alimentazione, perché altrimenti chi poi come voi deve lavorare nelle istituzioni, deve lavorare sulle leggi, deve lavorare con sta burocrazia mostruosa che ci ha rappresentato Fico, si demotiva. Se non c'ha dei luoghi, come dire, di alimentazione continua del pensiero, dell'idealità, dello slancio, del progetto rivoluzionario, si demotiva, si depotenzia nelle beghe che io posso immaginare in questa struttura. Quindi c'è una profonda necessità di una rivoluzione democratica di tipo nuovo, anche perché, come dicevamo, siamo in un punto estrema della storia del pianeta. Vi cito due, tre righe di un autore che tra l'altro nel movimento è molto ben considerato, che è Jeremy Rifkin. Prendiamo una delle tantissime citazioni, questo è l'ultimo libro, La civiltà dell'empatia. Il compito che attende la razza umana è ciclopico. Per la prima volta dobbiamo invertire il corso della nostra stessa storia di specie e creare una nuova civiltà interdipendente che consumi non di più, ma meno energia e che tuttavia permetta all'empatia, cioè diciamo alla correlazione umana, di procedere nella sua maturazione e alla coscienza globale di espandersi fino a coprire di grazia e di compassione, anziché di scorie dell'energia che consumiamo la terra intera. Quindi questa rivoluzione non è un optional, è urgentemente necessitata da un compito ciclopico che grida da tutta la terra e da tutti i nostri cuori, perché poi la terra grida anche in ciascuno di noi, anche se noi poi magari non sappiamo interpretare questo grido. La disperazione che ci sta attanagliando, perché questa è la verità, la depressione si intravede come la maggiore causa di morte dei prossimi anni in Occidente, depressione, nuove forme di ansietà, nuove forme di psicosomatiche espressioni del dolore, di questo dolore che è un dolore di senso, capite? È un dolore di senso, uno ha dentro di sé questo grido di dolore di senso, accende la televisione, deve vedere Renzi o chiunque altro che discute di cose del tutto stupide, inutili, o comunque non commensurabili a ciò che dovremmo fare, il compito che attende la razza umana e ciclopico e noi ci stiamo a rompere le scatole sui nezie. È come se noi fossimo sul Titanic a dieci secondi dal botto e discutessimo sul colore delle tappezzerie. Ma lo mettiamo blu o lo mettiamo verde? Ma no, mettiamolo verde, dai che ci sta meglio, ma no, mettiamolo blu, è là, discorsi, talk show, eh, intervistiamo questo, è meglio verde o rosso? No, è meglio rosso, ma no, il rosso è ideologico, ma anche il verde è ideologico, è là, da ore, 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 ma c'hai dieci secondi, non hai capito? Non hai capito? Te lo dicono tutte le persone più intelligenti viventi sulla terra, ripeto, lo dice il Papa ne ha laudato sì, lo dice Rifkin, lo dice Habermas, chiunque pensi, in qualunque ambito, ti dice che la situazione è molto allertata. Ora, questa rivoluzione, molto in sintesi naturalmente, ripeto, ha caratteri, a mio parere, inediti, cioè innanzitutto è democratica, è una rivoluzione democratica, perciò siamo in Parlamento, ne parliamo in Parlamento, la democrazia, secondo me, e non solo secondo me, è in se stessa un movimento rivoluzionario, la democrazia quando si è pensata, si è sempre pensata come qualche cosa da compiersi, che non è mai compiuta, la democrazia è sempre un progetto, un'idea regolativa, direbbe Kant, cioè qualche cosa che è sempre da farsi, perché mai la giustizia, la libertà è compiuta, quindi la democrazia deve recuperare lo slancio rivoluzionario che le è proprio, quindi questa è una rivoluzione assolutamente democratica che rilancia la carica rivoluzionaria insita nel progetto democratico come tensione inesauribile appunto alla libertà, all'uguaglianza, alla giustizia. Ecco perché le sue armi, le armi di questa rivoluzione sono parole guerriere, sono parole, sono parole, l'arma è la parola, guardate che la parola è un'arma molto potente, se usata bene, ma solo la parola, la forza sarà nelle idee, nella parola, parole che possano illuminare nuove visioni, che non escludano nessuno. Questa rivoluzione, questa è interessante la trasversalità del Movimento 5 Stelle, è giusta. Noi dobbiamo convocare tutti, sia chi venga da una tradizione liberal-democratica, che venga da una tradizione cristiano-democratica, che venga da una tradizione social-democratica, che venga da una tradizione di pensiero nazionale, democratico, tutti siamo convocati a questo processo, nessuno è escluso, non è contro nessuno, è contro un sistema di potere che schiavizza l'uomo, questo sì, ma non contro le persone, contro le idee, ed è una convocazione universale, noi dovremmo fare delle convocazioni per chi voglia naturalmente interloquire, perché io sono convinto che tutti i politici poi sono esseri umani, come tutti, e quindi dietro le loro maschere, chi vuole naturalmente, perché c'è chi della propria maschera non vuole farne a meno, però ci sono sicuramente tanti altri politici che sarebbero molto interessati a stare anche qui, di tanti schieramenti diversi, che sentono questo, non sanno come esprimerlo, allora siccome non sanno che fare, debbono comunque fare il loro ruolo, la loro parte, e la fanno, ma con quale amarezza interiore, la vorrei veramente andare a sondare io, vorrei veramente, io l'ho fatto quando facevo la radio per tanti anni, lo facevo, feci un programma che si chiamava per esempio lo specchio del cielo, che erano incontri, Andrea forse se lo ricorderà, erano incontri con personalità della storia, della filosofia, della politica, che però noi incontravamo da uomini, umanamente, quindi facendo anche domande sul cuore, sulla esistenza, sullo smarrimento, eccetera, quindi questo è il primo dato. Questa rivoluzione poi a mio parere, come è stato già affermato, è politica ma in un senso moderno o postmoderno, cioè un senso che coinvolga la persona, la persona, negli anni 70, negli anni ancora 80 si diceva, il personale è politico, il politico è personale, poi c'è stata la grande regressione neoliberista che ha ridotto la politica alla concettualità amministrativa ed economico-amministrativa, relegando tutto il personale in un ambito privato che non si sa che cosa sia, ma non è così, non è così, la rivoluzione che noi vogliamo in qualche modo alimentare ci deve coinvolgere nel cuore, deve coinvolgere la mia ricerca di senso, non può essere una cosa separata dalla mia ricerca di senso, dai miei quesiti, diciamo, esistenziali, affettivi, affettivi, l'affettività è politica, la relazionalità è politica, tutto è politico, quindi questa rivoluzione dovrà coinvolgere in una nuova sintesi l'elemento politico in senso stretto con quello personale, dovrà coinvolgerci nel cuore, nel fegato, questo cerca, perciò gli uomini non votano più, ma è così chiaro, che il gioco è truccato è troppo evidente, ma se non fosse truccato, se questa classe politica avesse un minimo di buona fede, dovrebbe interrogarsi solamente sul fatto che ormai il 50% non va più a votare, cioè fermiamo i giochi, fermiamo il gioco, Macron è diventato presidente della Repubblica Francese, col 16% dei voti dei francesi effettivi, e ha quasi tutto il Parlamento, non ha logica, cioè se ci fosse appunto buona fede, questo dovrebbe essere l'argomento unico, cioè la crisi mortale della democrazia rappresentativa, è inutile parlare d'altro, è inutile. Questa rivoluzione poi, altro carattere che mi pare fondamentale, è fisico-telematica, cioè accade anche attraverso la rete, e anche qui c'è un'intuizione geniale del Movimento 5 Stelle, perché noi stiamo diventando antropologicamente fisico-telematici, noi siamo una umanità fisico-telematica, tutti i nostri gruppi d'Arsi Pace si chiamano gruppi fisico-telematici, perché noi siamo sempre più e saremo sempre più fisico-telematici, cioè il nostro ambiente esistenziale, culturale, è fisico, ma è anche sempre telematico, siamo connessi, siamo sempre connessi, e questo è un tema su cui riflettere molto, cioè l'equilibrio tra il fisico e il telematico, nei vari ambiti, perché c'è qui un grande tema e anche un grande pericolo. La natura della rete non è casuale, a mio da questa crisi, che verrà fuori, state sicuri, è questione di tempo, cerchiamo di accelerarlo, questa umanità, è stato già detto, è più relazionale, cioè noi stiamo capendo che siamo connessi, a prescindere da Internet, siamo connessi, siamo psichicamente connessi, siamo fisicamente connessi, ce lo dice la fisica contemporanea, siamo connessi, quindi dobbiamo anche capire che i nostri comportamenti influenzano immediatamente gli altri, l'ambiente e gli altri, quindi la natura della rete come strumento tecnico può essere un'ottima via per accentuare questa natura relazionale del nuovo io. Lo dice Capra nel suo ultimo libro che ha scritto con Mattei, l'ecologia del diritto, dice metaforicamente il mondo non è più considerato una macchina, per secoli noi abbiamo considerato e tuttora in fondo il neoliberismo si basa su un'idea di macchina, il mondo è una macchina dove ci sono dei pezzi separati tra di loro che vanno al massimo, come dire, ben organizzati per determinati scopi. Noi oggi sappiamo che il mondo non è una macchina, ma è una rete di connessioni, infatti loro dicono, bensì una rete, e come è facile intuire, le reti costituiscono modelli relazionali. Il mondo è una rete di relazioni, questo ci dice la fisica, questo ci dice la spiritualità, questo ci dice la filosofia del Novecento, la politica non ha ancora raggiunto questa consapevolezza, la politica si muove ancora in un orizzonte setteottocentesco dal punto di vista filosofico e direi scientifico, si parla ancora di masse, si dà molto valore ai numeri, ma questo è Newton, non è Einstein. Noi sappiamo dalla rivoluzione diciamo epistemologica einsteiniana ma anche quantistica, che cosa produce il massimo di energia? La massa, come pensava Newton, o l'esplosione del nucleo di un atomo? Cioè la cosa più piccola al mondo, la cosa più piccola al mondo può produrre una quantità di energia staventosa, e anche su questo dovremmo fare un ragionamento politico, direi anche omeopatico, è l'infinitesimale che può cambiare il tutto, non è una questione di quantità solamente. E qui tante altre riflessioni. E direi che se questo è il quadro, quindi una situazione estrema, la possibilità di rilanciare un discorso rivoluzionario inedito, allegro del ventunesimo secolo, che sia democratico, che sia personale oltre che politico, e che sia fisico telematico, questo è un quadro, io credo che ci dobbiamo impegnare, e questo credo che risponda anche al ragionamento che faceva sia Dalila che Fico, su due livelli temporali, due livelli diversi temporali che sono però connessi. Un livello temporale è lungo, ragazzi, e ce lo dobbiamo di, sta robetta che abbiamo così, non è che accade con i tempi appunto dei talk show o dei sondaggi, politici, no? Ancora Casaleggio dice molto bene, se fai un discorso così a un politico ti guarda e ti prende per pazzo, ti prende per pazzo. Ecco perché io sono grato al Movimento 5 Stelle, perché non so quale altro partito qui presente o movimento avrebbe potuto ospitare queste parole? Ti prendono per matto, invece i matti sono proprio loro, schizzati proprio, alienati forte e quindi molto pericolosi, molto pericolosi, molto pericolosi, perché gestiscono molti poteri. Quindi se fai un discorso così ti guarda e ti prende per pazzo un politico, perché non è abituato a ragionare sul lungo periodo e per concetti che presuppongano una prospettiva non radicata nell'oggi, invece bisogna cominciare a ragionare sul lungo periodo. Questo è il primo livello ragazzi, dobbiamo farlo, questo è già rivoluzionario, questo è già rivoluzionario, cioè se noi riusciremo a proporre a livello culturale e politico un ragionamento di questo tipo, realistico, che affronti queste sfide, l'estinzione, la sesta estinzione, il compito ciclopico di Karl Rifkin, seriamente e lo riusciamo a vivere allegramente, perché non è un compito superiore alle nostre forze, è ciclopico, ma non è superiore alle nostre forze, è il compito per cui siamo nati, noi qui siamo una generazione nata per affrontare un compito ciclopico, è fatto su misura per noi, siamo perfetti, siamo perfettamente attrezzati, il problema è che non riusciamo a farlo, non ci crediamo, ci sono degli ostacoli e quindi sbloccare questi ostacoli e incominciare a proporre e anche ad imporre un diverso livello di ragionamento è già fondamentale ed è il primo livello temporale che secondo me dobbiamo coltivare, dobbiamo elaborare un pensiero della rivoluzione democratica in atto, perché non c'è, non è che ce l'abbiamo in tasca questo pensiero, è un pensiero che dobbiamo però elaborare e questa rivoluzione inedita richiede proprio che si elabori il pensiero mentre la si vive, non è controllata, non è che c'è, come dire, ecco abbiamo il libretto, il manifesto e dobbiamo applicarlo, non è così, è una dinamica molto profonda anche esistenziale, cioè ognuno di noi è chiamato a vivere una sorta di rivoluzione permanente personale, una trasformazione continua, siamo chiamati ad affrontare quotidianamente le nostre maschere, le nostre paure, le nostre modalità egoiche, belliche, no? Le nostre forme diciamo neoliberiste, individualiste, cioè da talpa, perché questo vuol dire una talpa, non vuole vedere. e diceva ancora Grillo, dobbiamo riuscire a guardare nel buio della consapevolezza, ed è bello questo, anche nel nostro buio, che solo un'intelligenza riformulata può salvarci, un'intelligenza riformulata può salvarci, si tratta veramente di un nuovo pensiero, di una nuova forma di mente, non è una cosetta, è un grosso processo antropologico, perciò tutti parlano di crisi antropologica, ma pochi poi spiegano di che parlano, che vuol dire? Un'intelligenza sulle cose, sul mondo e su noi stessi, questo è il primo livello fondamentale. E di questo, cioè di questa intelligenza delle cose, di questa lettura più profonda di ciò che stiamo vivendo noi, a livello personale, a livello globale, noi dobbiamo cercare di coinvolgere le persone, raggiungerle, io lo vedo anche nel nostro lavoro, cioè manca un linguaggio condiviso ancora. Queste cose, se tu parli privatamente, sono ovvie. Siamo pronti, non mi è mai capitato di trovare qualcuno che non capisse questo. Anche quando lavoravo alla radio e facevo il 3131 e avevo 800.000 ascoltatori al giorno, non c'era nessuna difficoltà di comprensione. Gli umani sono molto più avanti delle loro elite rappresentative, ma molto più avanti. Quindi noi dobbiamo coinvolgerli, raggiungerli, creare un discorso comune, con eventi, eventi nuovi. E siccome tu sei anche Presidente della Commissione di Vigilanza e lavorate, su questo la RAI è fondamentale come servizio pubblico. Dobbiamo definire il concetto di servizio pubblico. Dobbiamo ridefinirlo, questa è una vecchia storia, si faceva già 30 anni fa. Ma noi dobbiamo, se vogliamo agire come rivoluzione culturale, dobbiamo chiederci che vuol dire servizio pubblico come strumento di comunicazione di massa. Quali programmi un servizio pubblico di vera attualità deve proporre al popolo? pubblico. Che paga il canone oltretutto, no? E poi però vede in gran parte un'offerta identica o addirittura peggiore delle televisioni commerciali. Questo è un tema fondamentale. Io vorrei vedere dei programmi in cui si parli della realtà, ma è possibile che si deve parlare soltanto delle pazzie loro. Non si può più vedere la televisione, non si può più vedere la RAI, non riesco quasi più a vedere nulla, quasi nulla. Ma vogliamo fare un discorso su che cosa vuol dire anche fare un dibattito culturale e politico? Ma esiste solo questo tipo di format, fatto di battutine, cretinaggini, sense, sense, non si è inventata Bianca Berlinguer, la percentuale di sentimento. Tu parli e quello ti dice 46%, 45%, ma è un'angoscia, ma che è? Ma che me frega? Ma chi l'ha detto poi che se avessi anche il 90% contro sia sbagliato? Magari è proprio sbagliato averci tanto simpatia. Chi l'ha detto? Chi l'ha detto? A parte che bisognerebbe capire bene come viene individuato questa cosa. Cioè bisognerebbe fare una guerra contro i paroi guerriere, impedire, contestare, fare un programma per dire quanto è stupida questa cosa. Pensate che bello. Un programma in cui si intervistano però persone serie, non so, filosofi, psicoanalisti, e si dice ma perché la signora Berlinguer fa una cosa così stupida? Lei sembra una donna intelligente. Perché una donna intelligente fa una cosa così stupida? Io lo trovo un delay, ma glielo vorrei chiedere, cioè se fosse qui io onestamente glielo vorrei chiedere. Sei una donna intelligente, si vede. Sei brava, una brava giornalista. Ma perché fai una cosa così stupida? Offensiva. Proprio vai, vai, vai sempre più giù. Vai, vai. Dove sei arrivata? Nella merda? Vangiati la merda. Vai ancora più sotto. Ma perché? Perché dobbiamo accettare questo senza indignazione, senza rivoluzione culturale? Inventiamoci nuovi programmi televisivi, per carità di Dio. tanto accadrà. Accadrà, prima o poi accadrà. Altrimenti questo discorso continuerà a rimanere carbonaro. Ma guardate che le percentuali sociologiche di quelli che vengono chiamati creativi, cioè le persone che in un modo o nell'altro si interessano di ambiente, spiritualità, cura di sé, solo tra il 25 e il 30% in Italia. Queste persone, per esempio, non sono rappresentate. Non si sente mai un discorso che tenga conto che esistono livelli di maggiore profondità nell'esperienza umana, a parte lo 0,2, il 3,4, no? E i mercati sono pensierosi? Oddio mio, sti mercati sono nervosi? E dategli l'Oxanax! Ma chi sono sti mercati? Dobbiamo rassicurarli. Dobbiamo rassicurarli. Si preoccupano e incominciano a avere il patema. Allora, oh, i mercati sono preoccupati, sono molto... Rassereniamo i mercati, botte da orbi. Rasserenare i mercati sono botte da orbi, per i poveracci, quelli che su non gliene fregherebbe niente. Ma a me che cacchio mi fotte se lo 0,2 agli Shanghai cala? Ma che me frega? Prima notizia. Apre il telegiornale. Apre il telegiornale. Allora, questo è una rivoluzione culturale. Contestare questo linguaggio è una rivoluzione culturale, positiva, allegra. Ecco perché Grillo mi è stato subito simpatico, perché è un comico. E questa gente va ridicolizzata innanzitutto. Non bisogna entrare nei loro discorsi. Anche lì, geniale. Non andiamo nei talk show. È inutile. O si fa in un altro modo o è inutile andarci. È inutile, è dannoso. Certo ci vuoi la forza per dire questo, perché se no ti emarginano. Però queste sono delle strategie che dobbiamo assolutamente approfondire. E poi appunto queste dinamiche anche sulla rete. Io ho studiato quel video Call to Action di Fico. Questa chiamata all'azione che gioca sul concetto di azione, che tra l'altro ce l'abbiamo giocato pure noi. Noi abbiamo parlato di liberazione. Liberazione, no? Voi parlate di informazione, collaborazione, socializzazione. Ecco io aggiungerei creazione, immaginazione, ideazione. Creare delle idee insieme anche eventi, eventi specialmente eventi fisico-telematici, anche sui territori, in cui certe idee incominciano a filtrare un'energia nuova, furente, gioiosa, allegra, divertente. Furente, furente. Dovete mantenere una diversità. Questo è quello che io vi chiederei da votante, ma non da militante. Però secondo me bisogna mantenere una diversità, una diversità non presuntuosa. Vi diranno di tutto, vi diranno che siete una setta, vi diranno che siete tutto quello che vi pare, ma l'importante è dimostrare di non esserlo e di mantenere e accentuare questa diversità, secondo me, accentuarla, rilanciare, ecco, rivoluzione culturale, ecco. E per concludere direi questo è un tempo straordinario. Anche questo, l'umore in cui noi dovremmo, secondo me, dire tutto ciò è un umore positivo. La gente ha bisogno di speranza, non di speranza retorica, di speranza proprio di gente che ce l'ha la speranza. La speranza è come il coraggio, diceva Don Abbondio, o ce l'hai o non ce l'hai. La speranza o ce l'hai o non ce l'hai. E la speranza la devi scavare tutti i giorni nella disperazione. Ecco perché bisogna inserire dinamiche personali di lavoro interiore, di lavoro personale, perché sennò tutto ciò crolla. Quindi noi dobbiamo lanciare queste parole guerriere con un clima di positività, di chance, di opportunità. È dura, è dura, cioè non è retorica. La speranza non deve essere retorica, non deve nascondere la difficoltà delle cose. Anzi, la deve fare vedere ancora meglio, ma deve dare la percezione forte e emotiva che noi possiamo farcela. E io voglio concludere proprio con queste parole ancora di Grillo. e io amo citare nei luoghi dove vado i testi del luogo. È molto più interessante. Allora, questo è un breve dialogo tra Grillo e Casaleggio. Proprio veloce. Allora, Grillo dice, è un sistema da cambiare, nello stesso modo in cui si dovrebbe rinnovare le fonti di energia. si dovrebbero rinnovare le fonti di energia. Casaleggio dice, per cambiare sistema bisogna cambiare le persone. Allora Grillo dice, e come cambi le persone in tempo di pace? Ci vogliono sono le rivoluzioni. Si spera pacifiche. Ecco, questo è il piano. Per cambiare un sistema come questo bisogna incamminarci lungo un cammino di trasformazione antropologica che parte da me, ma non si ferma a me. Parte da me per farsi comunionale, relazionale, culturale e poi politico. Se noi riusciremo a far sentire all'uomo che questo è possibile in atto e a dare degli strumenti, creare degli strumenti organizzativi perché questo si possa esprimere, io credo che, come dicevi, lasceremo un segno nella storia. Grazie. Grazie. Grazie Marco per questo entusiasmo, questa forza e grazie anche a voi che avete accolto questa iniziativa che non era per nulla scontata. Voglio salutare anche degli amici che vengono dalla Calabria, addirittura da Corigliano Calabro, da Tavrianova, in provincia di Reggio Calabria. Sono luoghi che vengono ritenuti la periferia d'Europa, luoghi dove appunto non ci sono i numeri che contano, eppure anche loro hanno voluto essere qui con sicuramente tanti sacrifici. Ringrazio anche dei colleghi che vedo parlamentari, Parentela, Dieni, c'era anche Giordano, prima Mantero. Nel frattempo se qualcuno di voi vuole pensare a degli spunti, ecco Francesca, ti conosco quindi, per fare delle brevi domande. Diciamo che l'unico vincolo che abbiamo è che noi entro le 7.20 dobbiamo liberare la sala, quindi abbiamo del tempo per parlarci. se ti può avvicinare, per favore, così... Soprattutto, veramente volevo ringraziarvi, volevo ringraziare Dalila ma anche i relatori, perché sono felice. Cioè, finalmente ho sentito parlare in questo spazio di qualcosa che è inimmaginabile, come dicevo. Quindi, più che domande, sono delle riflessioni che voglio condividere, che potrebbero diventare spunto. Vabbè, prima di tutto, io credo, quando è cominciato a parlare del pensiero del cuore di Hillman, io penso che la vera rivoluzione in questo momento storico è ricominciare a sentire. Perché credo che quello che per me è terrificante è questo scollamento, cioè il processo di alienazione compiuto al 100%, cioè tutto è fuori, niente è più dentro. Questo scollamento, per cui io credo che noi che siamo nelle istituzioni dovremmo chiederci, no, che cosa possiamo fare per cercare di lavorare, per ricominciare a rimettere in contatto le persone tra di loro, no? Perché è come se tutti avessero questa separazione. Tutto testa e niente più entra dentro, niente più va nel cuore, niente più si sente. E quindi parlavamo di velocità. Io credo che questa velocità sia funzionale, perché per sentire bisogna rallentare. E quindi se tutto è veloce, se tutto viene fatto così velocemente, inevitabilmente la gente si scolla, cioè il processo di alienazione è perfetto e quindi si può robotizzare l'individuo, si possono diventare tutti dei piccoli robot e poi fare i procedi. Io lavoro all'università, quindi io negli anni ho visto proprio la trasformazione di questi studenti sempre più robot, sempre meno critici, sempre più performativi e che anche quindi sempre meno interessanti, meno stimolanti, no, per noi docenti. Allora io pensavo appunto che ci sono un mare di spunti di tutto quello che avete detto, cioè il fatto che in realtà in questo momento storico noi stiamo affrontando anche un cambiamento epistemologico da un pensiero binario a un pensiero complesso. E io credo che per esempio un altro spunto di un altro seminario potrebbe essere conflittualità e denuncia. Perché io credo che quello che per esempio per noi il Movimento 5 Stelle è un grande tema, come non entrare nel conflitto, perché il conflitto è proprio il pensiero binario, è proprio il liberismo che lo cerca. Ci vuole mettere uno contro l'altro per togliere la complessità, per non farci approfondire, per porci tutti i nemici, no? Perché così poi trionfano le regole esterne e trionfa tutto il resto. Allora riuscire a trovare mezzi di denuncia che vadano al di là della conflittualità e soprattutto del nostro comportamento nelle istituzioni. Perché io credo che noi scasseremmo veramente nel momento in cui noi procediamo cercando relazioni, cercando persone, non andando al di là di quelle barriere nelle quali ci vogliono stare per ridurci e per ridurre proprio la nostra complessità. E poi giusto un'altra piccolissima cosa, quando parliamo appunto anche un'altra riflessione della rivoluzione fisico-telematica, è molto importante, però non molti di voi me lo insegnano, cioè la comunicazione è per il 93% non verbale. Tutto quello che passa è quel sentire, che è la nostra verità, viene dal non verbale. Quindi riuscire a riappropriarci di questo fisico, della fisicità, del sentire e della trasmissione appunto di questa connessione necessaria. Io penso che questi sono i binari e gli spunti di questa rivoluzione che dobbiamo iniziare a fare. Grazie veramente. Grazie Francesca. C'è qualcun altro di voi che vuole magari dire delle cose? a abbraccio sull'onda dell'emozione di questa giornata. Premetto, io conosco Marco da una vita, diciamo che venendo da Trieste è stato una delle prime persone, gruppo di persone che ho conosciuto, e abbiamo immediatamente da allora condiviso questa ricerca di un senso delle cose che ci accadono. Poi ovviamente la vita ci ha portato per altri percorsi, siamo arrivati ai tempi nostri. Rispetto alla politica ho sempre avuto un approccio, come dire, abbastanza distaccato, perché come tutti la subiamo, siamo chiamati a votare, cerchiamo di farci un'idea, ma è sempre stato molto faticoso. Ho guardato anch'io con curiosità e interesse a questo movimento. All'inizio non condividevo certi assunti che mi sembravano semplificazioni, questo dire destra e sinistra sono uguali, io mi riconoscevo in un'area di sinistra e rifiutavo questa cosa. Poi il Movimento 5 Stelle è entrato in Parlamento, io all'epoca passavo parecchio tempo in macchina e stavo quasi sempre collegata con GR Parlamento, Radio Radicale, e mi capitava di sentire ogni tanto dei discorsi in cui mi riconoscevo e guarda caso erano sempre tenuti da qualche parlamentare 5 Stelle. E quindi ho cominciato a seguirli, insomma, a cercare di capire. E non li ho votati nel 2013, ma li ho votati nel 2014 alle europee. Questo per dire che da quel momento in poi, diciamo, uno dei miei ruoli principali, io sto su Facebook come tanti di noi, è stato quello di decostruire ogni volta il repertorio ossessivo, noiosissimo, di luoghi comuni sul Movimento 5 Stelle. Ovviamente molto spesso c'erano degli eventi che si prestavano a essere completamente manipolati e fuorviati dal mainstream mediatico, ovviamente sempre in chiave demonizzatrice e negativa. E quindi io tra volte andavo a ricontestualizzare la frase di Grillo, l'episodio, eccetera, per spiegare perché era stato detto in quel modo e quale verità questo contenesse. Un lavoro estenuante che mi ha alienato un sacco di amicizie, molti mi hanno detto sei plagiata dai 5 Stelle e questa è la cosa più, come dire, più mortificante. Ho avuto dei momenti reali di depressione perché mi dicevo, ma possibile, cioè sono veramente io strana, ma com'è che io trovo proprio a livello empatico un senso di verità nelle cose che mi arrivano da loro come scelte, come dichiarazioni, come anche le cose più apparentemente strampalate di Grillo mi risuonano, mentre la gente dice, ma quello è esagerato, ma perché usa sto linguaggio? Cioè tutti, come al solito, guardano il dito e non la luna che lui indica. E quindi oggi questa giornata in cui, come dire, questa ricerca di senso che poi ho sempre ritrovato seguendo gli scritti di Marco, che si incontra con questo mondo alieno per tanti che io ho sempre cercato di decodificare, si incontrano, è stato veramente illuminante. Bellissime, bellissime le parole, bellissimo questo senso a cui siamo chiamati e quindi, diciamo, questo mi rinforzerà via più in questo lavoro di, come dire, di decriptazione e di far capire che non abbiamo chance. O si fa così o implodiamo o moriamo. Però al tempo stesso mi rendo conto come la potenza mediatica di tutti questi mezzi che contrastano ovviamente il lavoro dei Cinque Stelle, perché sono gli unici realmente antisistema, è profondissima. Io di tante persone, anche miei stretti, voi familiari, amici, di cui ho totale stima, che abbiamo sempre, come dire, pensato nella stessa maniera, mi rendo conto come i media manipolano e raggiungono lo scopo. Adesso l'accostamento continuo dei Cinque Stelle, ora leghisti, ora fascisti, ora penetra, penetra in una maniera, cioè proprio colonizza la mente, cioè i titoli, no, sparati dai TG, eccetera, immediatamente vanno a fondo. Mentre il lavoro, appunto, di far capire perché hanno detto di no a quel decreto, eccetera, chiaramente è faticoso, bisogna avere tempo, bisogna... però, insomma, come dire, oggi ho tratto una motivazione in più. Quindi, niente, vi ringrazio. Tutto qui. Mi sedo anche, ma un secondo. Io ho due domande per il professore e una per i colleghi, davvero a rompiscatole, ormai certificata. Allora, lei prima, professore, parlava di parole paroline e poi ha parlato di creazione, di rivoluzione e a me immediatamente è venuta in mente l'omologazione, che ha lo stesso finale, ma ha un significato molto diverso. Però mi chiedevo, questa omologazione che tendono proprio, cioè si tende proprio a omologare le persone, però poi parlava dei mercati che sono nervosi, quindi omologhiamo le persone, ma diamo dei sentimenti ai mercati. E veramente appiccicare emozioni e sentimenti ai mercati mi sembra una follia. Allora mi chiedevo, ma questo fatto di appiccicare sentimenti ed emozioni è comunque una necessità perché l'uomo non ne può fare a meno e quindi da qualche parte deve andarli comunque a mettere, visto che essendo omologati non siamo più capaci delle volte di sentire oltre che di pensare. E l'altra cosa che, cioè quindi la domanda è perché questa necessità comunque di parlare di sentimenti ed emozioni ma non di sentirli, farli propri e viverli nella creatività di cui poi parlava anche prima. E l'altra cosa è, lei diceva, dobbiamo riprendere a pensare, ma è davvero possibile riprendere a pensare senza le emozioni e i sentimenti? Perché io credo che non sia tanto possibile. E invece la domanda per i miei colleghi è sempre sull'omologazione. Non è facilissimo. Il movimento come affronta l'omologazione e la affronta o la subisce l'omologazione? Dopo questi quattro anni e mezzo qui dentro fosse una risposta è meglio che iniziamo a darcela, secondo me vorremmo sapere cosa ne pensate nel merito. Grazie. Se volevo finire un ciclo di domande, di spunti, così poi passiamo alle risposte. Non so se qualcuno... Vieni. Diciamo che io ho una piccola riflessione che finisce con una domanda. nel senso che penso che tutti più o meno qui dentro cerchiamo tutti i giorni anche di dare un senso al progetto del movimento, cercando di fare piccole attività e che il nostro seme germogli per portare avanti questo progetto. Però a volte mi accorgo che ci scontriamo anche noi con le parole che ha detto il professore, che ha detto Roberto, ci creiamo la nostra piccola elite. attendiamo spesso che ci sia la parola di... l'arrivo di un piccolo messia, cioè nel senso che spesso sta arrivando il deputato, sta arrivando il consigliere, attendiamo, telefoniamo, vediamo che cosa ci dice il consigliere regionale, che cosa ci dice il deputato sul territorio. quindi non riusciamo neanche noi spesso ad uscire da degli schemi che ci hanno inglobato in questi anni di cui il movimento è il progetto che cerca di superarli in un certo modo. Quindi questa era una riflessione per noi. E tornando invece alla domanda è questa rivoluzione, appunto, essendo una rivoluzione culturale permanente, ci deve essere sempre un fuoco che l'alimenta, l'ha detto sia Roberto sia il professore. Come si può coniugare con un'esigenza quasi fisica di governo, forse probabilmente anche per concretizzare e far saltare un tappo che immobilizza l'energia di questo progetto, con un combino culturale che si capisce che è più lungo e che ha bisogno di essere interiorizzato. Grazie. Anche per tutti i chilometri che ci siamo fatti per essere presenti. Allora, innanzitutto io mi chiamo Domenico e mi occupo di formazione e conosco bene i gruppetti che parla il professore perché siamo costretti a creare solo dei piccoli gruppetti tutte le volte che abbiamo intenzione di fare il passo successivo quando si tratta di capire qualcosa. sono quei gruppetti dove il formatore stesso che organizza in primis per imparare qualcosa di nuovo che magari sta fiorando nella mente e ha bisogno di una platea che gli fornisca quei 30-40 punti di vista diversi su quell'argomento. però si parla sempre di 30-40-50 persone e non di più e a giro sono più o meno sempre le stesse. C'è una carenza di motivazione assurda anche perché non siamo stati abituati a prenderci responsabilità. E' molto faticoso prendersene. Vedo sempre di più la crescita personale come un percorso individuale dove spesso e volentieri anche il più motivato si ferma e si tira indietro perché magari ha quella sensazione di non essere capito, di non essere apprezzato. Vabbè non è il mio caso perché io ci vado avanti perché ripeto utilizzo il metodo del, tra virgolette, insegnamento agli altri per capire io stesso. Alla fine di quelle 4-5 ore di gruppetto usciamo tutti che abbiamo capito qualcosa di nuovo. Mi sono rivisto in moltissimi passaggi che lei ha fatto, anche Roberto, anche Dalila perché fondamentalmente come mi hanno insegnato i maestri, che credo che siano i maestri comuni perché quelle sono le frequenze dove ci stiamo muovendo e più o meno tutte le persone che siamo oggi qui presenti. Però è difficile, ma non impossibile, farci, diciamo, fare entrare nuovi individui all'interno di queste frequenze perché, non lo so, i termini che verrebbero fuori da quello che magari possono essere le mie riflessioni potrebbero essere incompresi e forse anche offensivi e quindi evito. Però noto moltissimo, come diceva bene il nostro amico, l'attesa del Messia, di qualcuno che ci venga a liberare. E' stato così da anni, stiamo perpetrando, da anni, da secoli o da millenni, stiamo perpetrando in questa condizione, in questa speranza sarà per tutto il sistema di credenze, per tutto il sistema di convinzioni che comunque sono cresciute con noi ma non nate con noi. Fondamentalmente si nasce liberi, solo che poi veniamo oppressi da tutte queste nozioni, da tutte queste informazioni, da tutti questi plagi. che comunque ancora oggi, da buoni schiavi, ci teniamo ben stretti e proteggiamo purtroppo, e questo è abberrante, tutti coloro che ce li hanno implitti facendoceli anche in maniera endovenosa e non solo. Grazie. Grazie. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Trente voi, insomma, rispondiamo. Ecco. Io sono un partecipante ai gruppi di Marco, faccio un intervento così, un po' le emozioni che ho provato ascoltando. Innanzitutto faccio i complimenti a voi due, perché, insomma, io, anche io sono, come dire, l'ho visto dall'esterno, l'ho sempre visto in televisione, così. E devo dire che sentendo parlare in particolare Roberto ho sentito il cuore. Non è facile sentire un politico, normalmente li vediamo in televisione ieri sera, non perché Renzi poi, diciamo, ieri sera c'era Renzi in televisione, ho cambiato canale, mi capitava, facendo zapping, ho proprio fatto fatica a non cambiare canale. E' una cosa terrificante. Invece oggi Roberto mi è piaciuto, sì, Roberto mi è piaciuto perché, non so, ha espresso, è strano sentire un politico dire le cose che ha detto lui, e questo è un po' quello che ci piace sentire nei nostri gruppi, sentire le persone parlare col cuore. E oggi io l'ho sentito una persona parlare col cuore, quindi te lo volevo dire e mi fa piacere. E ho sentito parlare, ho sentito un politico, anche importante, con una responsabilità importante, esprimere anche dei sentimenti, parlare col cuore e dire, come dire, in qualche modo, esprimere il senso di un cammino che voi state facendo. E questo è bello, bello perché la rivoluzione che noi, diciamo, come dire, in qualche modo, seguendo il movimento di Marco, cerchiamo di fare in noi stessi, è una rivoluzione che richiede un cammino, cioè non succede ora, è subito, succede ora, è subito, in qualche modo, nelle intenzioni delle cose che uno fa su se stesso, però per ottenere dei risultati ci vuole tempo. E perché ci vuole tempo? Perché, in qualche modo, il cambiamento di umanità che dobbiamo fare è un cambiamento che, in qualche modo, deve dotarci di strumenti diversi, che ci mettano in grado di comprendere una realtà che è complessissima. Non dobbiamo avere paura che ci vuole tanto tempo, perché la realtà che dobbiamo interpretare richiede una grandissima capacità, una grandissima capacità critica, che dobbiamo sviluppare, che nessuno ci ha insegnato. Sono nuovi strumenti che dobbiamo creare. Quindi non dobbiamo avere paura del fatto che, in qualche modo, non ci riusciamo. Perché io ho sentito nelle testimonianze che voi avete fatto, ve lo dico sinceramente, anche l'espressione di una fatica. E tutti voi, insomma, le persone che hanno parlato del movimento, l'espressione di una fatica. Non dovete avere paura di questa fatica. Perché la fatica è normale. Perché se tu sei in montagna e vuoi andare in cima, fai fatica. Ma la fatica ci consente di sviluppare, lo dico per la fatica che ho provato io, diciamo, con un percorso personale diverso e così via, all'interno dei gruppi che abbiamo fatto, nel mettere in dubbio me stesso. Però ho capito che era la fatica che mi faceva sviluppare quegli strumenti necessari a interpretare una realtà che era difficilissima. La realtà è complessissima. Per cui tu fai fatica a sviluppare quegli strumenti necessari per poterla interpretare e leggere, e quindi cambiare. Se prima non la sai leggere, come la fai a cambiare? Quindi il senso di fatica che voi avete espresso non deve essere una cosa negativa, è una cosa positiva, che dovete rilanciare. Dovete rilanciare all'interno del vostro momento questa fatica va rilanciata, perché ci deve essere. Se non c'è, vuol dire che non stiamo salendo, non stiamo facendo la strada. E l'altra cosa è il tema di questo tema, dell'aspettare qualcuno che ci dice. è giusto avere, come dire, in qualche modo delle guide, dei punti di riferimento. Però la strada, in qualche modo, la difficoltà dell'interpretazione della strada è in qualche modo legata anche alla capacità di prendersi una responsabilità. Cioè la costruzione della strada, proprio in questo mondo molto più complesso, molto più articolato, dipende molto più dai singoli. Dai singoli, dalle singole persone che si prendono la responsabilità di essere in se stesse rivoluzionari. Avendo rivoluzionate se stesse hanno anche la capacità di parlare in modo diverso. E quindi le verità non devono necessariamente venire da altri, ma vengono spesso da se stessi. E questo è quello che impariamo noi nei nostri gruppi, la capacità di parlare col cuore. E quando tu parli col cuore, quando hai... con un cuore rinnovato però, con un cuore in qualche modo che ha saputo levare le maschere, ha saputo levare tutto quello che c'è intorno, dopodiché non si ha paura. Non bisogna avere paura e non si ha paura. Grazie veramente. Grazie, grazie, grazie. Grazie veramente. Vi dare spazio ai nostri relatori di rispondere a un po' di spunti. Roberto, ti va di iniziare? Fondamentalmente erano un po' tutte le riflessioni, la domanda, quella più specifica, è stata fatta da Elisa, se il movimento subisce o affronta l'omologazione. Questo è un tema, ed è un bel tema, è un tema forte, cioè nel senso io credo che il movimento in qualche modo subisce l'omologazione e a suo modo poi cerca di affrontarla proprio perché magari la subiamo. Ma l'omologazione si subisce perché quando arrivi in un luogo anche come questo, dove ci sono dei riti che sono in qualche modo preordinati, entrare in quel luogo ti fa ripetere delle procedure, dei meccanismi, dei modi, degli atteggiamenti che o cerchi di vederli sempre bene nel momento in cui avvengono e in quel modo rifletti e cerchi di superarli o se no negli anni ti portano a essere un po' simili agli altri. Io dico che in questo caso noi siamo siamo in un modo cioè un po' omologati a volte però anche no siamo in un mezzo perché abbiamo portato qui delle pratiche che prima sicuramente non c'erano dei modi noi, degli atteggiamenti, una forza dirompente negli interventi, delle parole che non venivano usate, anche l'idea delle sospensioni. Noi siamo stati sospesi per un numero di giorni infinito, forse nessuno era mai stato sospeso come noi cacciati dall'aula, questo lo dico perché abbiamo comunque usato ogni tipo di forma di lotta e di comunicazione, mi ricordo quando c'è stato il decreto IMU Banca Italia che si regalavano i 7 miliardi e mezzo di euro a Natale, noi siamo arrivati giù ai banchi del governo, davvero abbiamo scatenato una protesta che in aula in quel modo così non si vedeva, ma al di là di questo sono stati secondo me soprattutto i discorsi che abbiamo fatto in aula. Io molte persone ho ascoltato dire che sentendo il GR Radio, molte persone che non ci votavano, molte persone che comunque magari non votavano, anche persone che votano e non votano noi, però tramite discorsi nel silenzio magari di un'auto ascoltando la radio sono riusciti a non avere intermediazione e quindi ascoltare direttamente il discorso che si diceva e quello è stato molto potente perché uno dei primi discorsi che è stato fatto è stato fatto in aula nella Commissione Esteri che c'era la questione non so se era la Sciala Baieva o un'altra questione per qual era? Sui Barò forse erano in ogni caso un discorso molto forte e fu molto apprezzato ci furono i discorsi fatti dai nostri capogruppo in dichiarazione di voto mi ricordo alcuni di Alessio Villarosa molto forti sempre sulle banche e sui prestiti bancari e hanno lasciato traccia negli italiani quei discorsi e quindi noi abbiamo avuto un primo anno un primo due anni di rompenti proprio rispetto alle parole quelle guerriere usate in piazza erano usate esattamente nello stesso modo in aula possiamo dire che negli ultimi due anni comunque abbiamo avvertito una stanchezza maggiore perché tutto ciò che dicevamo poi veniva bocciato gli emendamenti bocciati le leggi bocciate e questo continuo fare opposizione senza vedere dei risultati da un punto di vista ci sono stati poi risultati però la maggioranza delle volte verso il 90% delle volte non vedere il risultato attuato in un emendamento o in una mozione in una legge dopo un poco è giusto quello che dicevi è una fatica e quindi dopo quasi cinque anni siamo anche affaticati da questo punto di vista allora ci vorrebbe anche un rinnovamento nel modo di lottare nel modo di combattere nel modo di percepire discorsi in aula degli altri di noi stessi cioè è un cambiamento complicato da attuare solo nel Parlamento è molto giusto dire che qui non può essere una persona che fa il cambiamento ma è un movimento di pensiero nuovo che deve attuare il cambiamento nel nostro paese non possiamo nonostante ci sono ci separano dieci secondi dal Titanic sull'iceberg non sarà un cambiamento veloce non dobbiamo parlare di inezze perché quello è il grande problema ma dobbiamo riuscire a mettere le base in qualche modo le stiamo mettendo per un pensiero totalmente nuovo io vedo che l'essere umano so che l'essere umano perché dentro di me dentro di tutti ha delle potenzialità enormi inespresse potenzialità che noi stessi pensiamo forse di non avere quindi come esseri proprio biologicamente siamo molto di più di quello che noi stessi pensiamo e io questa forza qui anche all'inizio del percorso dei meet up del movimento nel 2005 la sentivamo tutti e veniva trasferita anche in modo molto più forte all'esterno e allora perciò dico che ci vogliono anche non contestazioni dietro di noi su di noi ma avanguardie che possono anche superare noi stessi e credo che il movimento non sia un progetto a tempo indeterminato una cosa che deve durare per sempre una cosa invece molto limitata nel tempo che serve per attuare in quel tempo il cambiamento che serviva proprio in quel momento sperando che ci siano altre persone che arrivino e ci riescano a superare in quello che noi dicevamo sempre nel percorso che abbiamo tracciato ma superare un'avanguardia nuova un'avanguardia che può superare noi stessi non so se noi stessi possiamo essere l'avanguardia di noi stessi ma perché siamo stanchini però io sempre spero che arrivino cose da fuori il movimento perché il movimento se no diventa un circolo autoreferenziale pure esso stesso invece se riusciamo a captare molto più energie da fuori capire che stiamo magari andando in una direzione che non va più bene che stiamo sbagliando che ci critichiamo ma per avere comunque l'obiettivo finale che è un mondo migliore più sostenibile dove al centro ci sia l'uomo non c'è il mercato non c'è la finanza dove si pensi di vivere in un tempo che è diverso proprio un tempo fatto in minuti in secondi dove io durante la giornata li passo in una forma diversa proprio perché sono un essere umano che ha delle potenzialità totalmente diverse e allora è questo anche di cui si discuteva forse prima molto di più di come vivere cooperando di come vivere in solidarietà di come vivere autoproducendo alcune cose di come vivere rispetto all'autosufficienza alimentare energetica cioè di come riuscire proprio a percorrere la vita nel nostro mondo in un altro modo e questo sarà qualcosa di cui noi saremo costretti per forza perché comunque non so avete sentito si è staccato un iceberg che giustamente si sta avvicinando al Vesuvio per spegnere il fuoco dice no perciò si è staccato sanno dei napoletani che stanno segando no però però è questo che sta succedendo quindi a un certo punto noi saremo costretti dal fare qualcosa e allora o come società al di là del movimento che poi sempre un'accezione ci fermiamo a riflettere con il tempo che noi ci vogliamo prendere ordinarlo organizzarlo per gestire il futuro o lo subiremo non è che ci abbiamo tante scelte poi se la scelta consapevole sarà anche perché non riusciamo a stare insieme in un pensiero diverso subirlo lo subiremo se invece decidiamo di poter fare qualcosa insieme che non significa il movimento significa fare qualcosa insieme in un movimento che ci porta al cambiamento va benissimo e secondo me questo pensiero un po' più trasversale è quello che ci deve liberare un po' dall'omologazione perché poi l'omologazione oggi siamo nella globalizzazione quindi l'omologazione è la cosa più semplice anche l'omologazione di quello che io penso che penso è originale invece è omologato se mi faccio l'orto con l'autoproduzione ma lei lo stanno facendo una marea di persone che può sembrare omologato perché sei dentro quel cliché allora è complicato dire oggi cosa non è omologato e cosa lo è cosa tu davvero desideri di fare perché ti sembra che quel desiderio a volte è indotto piuttosto che gestito da te quindi è complessa questa cosa e secondo me l'unica salvezza è comunque ragionare e farlo insieme cooperando anche essendo omologati in una cooperazione ma più occhi più orecchie più condivisione più pensiero più sommatore di idee che danno un'idea buona è l'unica strada che io vedo con la difficoltà che sappiamo tutti magari nei gruppi nelle cose però è l'unica altre altre io non non ne vedo più o meno c'era mi sembra la domanda di di Lucio la domanda riflessione di Lucio secondo me il punto rispetto al movimento è che uno non bisogna avere fretta come abbiamo detto e non è la fretta il governo la fretta è il è il cambiamento avere un orizzonte un orizzonte lungo più penseremo a un orizzonte lungo più possiamo attuare il cambiamento se ci fermiamo a pensare solo all'immediato che può essere le elezioni il consenso è chiaro che lì poi diventi omologato perché il grande problema delle forze politiche tutte è che vivono sul consenso e il consenso che cos'è quello che ti rende mediocre in genere perché dovendo piacere alla maggioranza di persone possibili e pensi al consenso allora diventi più mediocre è così e questo è il male delle democrazie del mondo la democrazia che deve essere una vita in se stessa molto forte perché la stessa rivoluzione è il fatto che esista la democrazia e che vive la democrazia però poi chi è attore della democrazia vive sul consenso e chi vive sul consenso vive sui voti e chi vive sui voti poi alla fine vive sulla mediocrità perché devi piacere a tutti per avere il voto maggiore e allora dobbiamo uscire totalmente da questa logica e questa logica qui poi ti porta invece poi avere secondo me il maggior consenso che significa oggi per me le persone tutti siamo alla ricerca di una nuova identità sia già in una post-modernità in una post-ideologia e questa costruzione di identità ti deve riuscire a fare avere delle basi ferme più un movimento qualsiasi come il nostro anche ha delle basi ferme e dei principi saldi in un mondo in tempesta più la costruzione di identità e il rafforzamento dell'identità si sposerà con l'identità delle persone perché è un'identità collettiva e oggi se la perdita di identità ti fa perdere un po' quello che tu sei oggi oggi noi cerchiamo un po' tutti un processo identitario nuovo che sia più collettivo meno individuale ma un processo identitario nuovo poi nella forma che sarà in un mondo che ha perso identità globalizzazione omologazione la ricerca di identità oggi è secondo me uno dei temi fondamentali da ricostruire volevo fare una breve riflessione così sarà Marco a chiudere questo ciclo di incontri e dire che insomma mi ha particolarmente stimolato la domanda di Lucio sui tempi perché oggi il tempo è la cosa più preziosa che abbiamo noi leghiamo al tempo forse anche il concetto del fallimento perché noi abbiamo questa paura come umani non solo come in questo momento rappresentanti politici di non arrivare a vedere noi in prima persona qualcosa che abbiamo contribuito noi a creare quindi anche se tutti quanti noi anche un po' per l'egocentrismo che fa parte di tutti noi vorremmo vedere noi stessi qualcosa e questo ci spinge tante volte anche ad essere frustrati a non vedere che le nostre battaglie portano sempre a qualcosa in realtà già il fatto di aprirci a relazioni che prima pensavamo inimmaginabili Roberto diceva dobbiamo trovare anche qualcosa fuori di noi per esempio magari con Marco Guzzino era scontato che ci saremmo potuti incontrare viaggiando sempre ai nostri recinti noi solo col Movimento 5 Stelle in realtà tu sei uno insomma di cultura che conosci il mondo le relazioni la società magari noi spesso torno alla domanda di Elisa alla quale potresti tra l'altro rispondere tu subiamo ogni tanto questa 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 omologazione questa chiusura lo stesso io penso al mondo dei social guardiamo quello che decidiamo sempre di guardare non apprenderci ad una ad un'altra fascia di persone oppure di idee di concetti e quindi trovare sempre strumenti nuovi inventarceli ci è venuta in mente questa cosa all'inizio il Movimento 5 Stelle per farsi sentire per far capire a tutto il mondo che stavano stravolgendo la Costituzione già nel governo Letta siamo saliti sul tetto di Montecitorio sicuramente non era una cosa politicamente corretta da fare però abbiamo deciso di fare questa azione forte di rompente per uscire fuori da certi schemi quindi questo penso che sia un momento nuovo che poi possiamo sempre rimodulare nel tempo visto che tutti quanti ci tengono sempre a raccontare a narrare in un certo modo adesso non li spiazziamo gli diamo anche quest'ulteriore lettura quindi grazie a tutti voi Marco vai direi che siamo arrivati a un punto addirittura veramente cruciale che è la ricerca dell'identità cioè noi viviamo tutti in una fase secondo me straordinaria difficile ma straordinaria in cui l'essere umano ormai planetario sta seriamente ripensando se stesso sta ripensando e cercando di riformulare la coscienza di sé lo si può dire in tanti modi l'abbiamo detto prima da macchina a diciamo a rete da io nel nostro linguaggio diciamo da io ego centrato quindi individuo l'uomo come lo pensa diciamo Locke come lo pensa il neoliberismo siamo monadi separate ognuno sta per sé ognuno è un'auto mobile che si muove da solo per il mondo e siccome le diciamo energie del mondo sono poche le vuole accaparrare per sé quanto più può è il mondo della selezione naturale di Darwin che poi alimenta la filosofia liberale per cui il mercato diventa la selezione naturale delle attività umane vince il migliore come nella natura gli altri vengono distolti ecco questo è un tipo di uomo che entra radicalmente in crisi già nel ventesimo secolo a livello filosofico e anche politico con esiti più o meno catastrofici ma adesso lasciamo perdere noi stiamo andando verso un altro modo di essere umani che anche qui c'è una concordia universale tra laici cristiani buddisti lo si può dire un io più relazionale cioè un io umano che capisce che l'io è relazione cioè non è che c'è sto prima io e poi io entro in relazione no l'io è relazione non è non sussiste in sé l'io è relazione ora è chiaro che questa umanità che sta nascendo in tutti noi è molto rivoluzionaria rispetto all'io vecchio che sta pure dentro di me e che organizza la struttura dei poteri dominanti oggi che invece sono strutturati su un io ego centrato su una cultura dell'individuo separato del conflitto come si diceva il pensiero binario non un pensiero sistemico non un pensiero complesso e questo è il nodo talmente importante che secondo me noi stiamo formulando e dovremo formulare anche a livello politico diciamo chi è il soggetto della rivoluzione perché le grandi rivoluzioni hanno prima individuato il soggetto per Marx il soggetto della rivoluzione è il proletariato è il proletariato che essendo schiavizzato diciamo dal capitalismo dalla borghesia ha servito il suo lavoro mercificato e quindi alienato diventa il soggetto rivoluzionario fa lui la rivoluzione chi fa la rivoluzione oggi questo è interessante ecco secondo me la rivoluzione questo perciò è inedita è questa nuova forma di umanità che sta emergendo in tutti o non emergendo in tutti e questo dobbiamo diciamo tradurre anche in un linguaggio politico per avere anche il consenso che ci vuole perché la democrazia è fatta di numeri allora noi dobbiamo fare capire che c'è una umanità oppressa in ognuno di noi quella umanità che sta soffrendo adesso in ciascuno di noi che non è espressa fino in fondo che si sente coartata da un linguaggio schiavizzante da un'alienazione strutturale ecco quella è il soggetto della rivoluzione quello è il soggetto ed è quindi un soggetto maggioritario maggioritario quindi l'omologazione che cos'è l'omologazione l'omologazione è una tentazione cioè ognuno di noi che vuole crescere sta tentando di emergere in una forma più relazionale più libera più vera di sé ha la tentazione di regredire retrocedere nell'ambito di quello che possiamo chiamare l'io vecchio l'io egocentrato l'io individualistico ce l'abbiamo tutti questa tentazione questa struttura e qui bisognerebbe poi chiederci perché perché l'uomo ognuno di noi tende ad alienarsi e qui ci sono riflessioni che andrebbero fatte sono politiche sono politiche ma chi è l'uomo ma si può fare una politica senza più interrogarci sui fondamentali secondo me no no anche perché la politica in occidente nasce sulla base della riflessione filosofica fondamentale di platone cioè su una riflessione sull'anima chi è l'uomo sulla base della riflessione fondamentale su chi è l'uomo nasce poi la politica in occidente quindi non è una novità oggi noi dobbiamo immaginare una politica dell'umanità nascente che cioè aiuti ciascuno di noi a non cadere nella tentazione dell'alienazione ora è chiaro che i poteri di questo mondo che sono strutturati sull'io vecchio e sugli interessi dell'io vecchio che cosa fanno? giocano sulla nostra tendenza ad alienarci ci danno tutto quello che il nostro piccolo ego morente vuole avere per continuare a esistere e ad alimentarsi quindi il sistema di questo mondo sistema culturale economico politico pubblicitario parla alla nostra parte alienata e la nostra parte alienata risponde capisci? è questa la forza del sistema perché altrimenti non avrebbe tutta questa forza non saremmo così facili all'idiotismo se fossimo un pochino più desti forse ci sentiremmo ogni tanto io appunto la televisione diciamo è un prisma di tutto questo io non riesco a dimenticarmi di me per cui io guardo la televisione e dico ma che me fai vedere non sono come dire assuefatto quando vedo quella lì la famigliola che corre e hanno visto la madonna no è un wuster e saltano loro giocano 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 sul bisogno di estasi e ti danno l'ecstasy giocano sul bisogno di infinito e ti danno infinity cinquemila film che ti puoi vedere quando vuoi uno lo vedi dieci li registri così la notte la passi a vedere i loro film e così sei completamente scemo e loro possono continuare a venderti altri diecimila film uno più stupido dell'altro e tu te li bevi te li bevi quindi c'è un nesso stretto tra la nostra tendenza all'omologazione e all'alienazione e la forza di questo sistema noi dobbiamo giocare su questo disinnestarlo e questo è un lavoro personale e politico quindi ci dobbiamo dire con chiarezza che è personale perché lo combattere contro la mia tendenza all'alienazione è un lavoro interiore è un lavoro personale bisogna capire perché io mi maschero perché io cerco il potere perché io sono tendenzialmente alienato come mi alieno io personalmente come tendo diciamo a fuggire da me perché poi l'alienazione è una fuga perché ho paura di essere me stesso o di cercare me stesso sono veramente determinato a essere felice o mi accontento di surrogati perché ho paura di essere felice queste sono domande politiche dobbiamo porle al centro del dibattito politico questa è la rivoluzione dobbiamo alimentare dei soggetti incoercibili non più ingannabili e qui ci vogliono degli esercizi anche interiori che sono politici ormai questa è la novità della rivoluzione del ventunesimo secolo che non può essere fatta con una umanità che non capisce questo ma questo non lo dico io Foucault già negli anni 70-80 parla della psicopolitica anche perché il sistema se vogliamo parlare in questo linguaggio sa benissimo tutto ciò e fa la sua psicopolitica fa la sua psicopolitica anche inconscia lavora anche sull'inconscio studiano loro studiano hanno fiorfiori di specialisti psicologi sociologi e stanno lì tutto il tempo a studiare come renderti deficiente e ci riescono ci riescono molto bene quindi poi è chiaro che questo movimento antropologico noi lo dobbiamo pensare secondo me a cerchi concentrici cioè il lavoro interiore è chiaro che ognuno poi se lo svolgerà come vuole ci sarà quello che è buddista e si disaliena seguendo la disciplina vipassana che serve esattamente a questo perché Buddha dice noi siamo completamente alienati siamo completamente ingannati dobbiamo svegliarci poi ci sarà chi è cristiano e seguirà la via cristiana della disalienazione che è sempre una via di disalienazione se c'è qualche platonico tra voi seguirà la via di Platone che diceva la stessa cosa l'uomo sta dentro una caverna non sa di che cosa si inganna si deve svegliare eccetera eccetera questo è un cerchio profondo ora è chiaro che il livello politico non è questo il livello politico secondo me deve aggregare deve trovare un minimo comune denominatore di tutti quelli che in modi diversi fanno questa esperienza ecco la trasversalità del Movimento 5 Stelle che dovrà essere sia politica che di tipo psico-spirituale guardate che tutta sta gente non ha rappresentanza sul piano politico e sono milioni in Italia quelli che stanno capendo questo stanno cercando di disalienarsi di rompere la magia di Matrix è comune questo ma non hanno una rappresentanza politica nessuno ne parla in questi termini quindi io spero che anche su questo piano il Movimento possa diventare sensibile e quindi raccogliere tantissime forze e questo rianima la motivazione secondo me cioè la motivazione per un cambiamento di questa forza deve essere molto profonda diciamo spirituale nel senso in cui si diceva nel ventesimo secolo in cui cioè anche Benedetto Croce parlava di spirito intendendo cioè non qualche cosa di confessionale o di religioso ma semplicemente il fatto che l'uomo è un animale cosciente quindi la spiritualità è l'autocoscienza questa è spiritualità parlare è spirito capite la vedete voi lo vedete questa parola che io dico la vedete non la vedete però la sentite ed è molto importante ecco questo è lo spirito quindi noi dobbiamo dare una rappresentanza a questa fame di senso di spirito a questo bisogno di disalienazione che sta emergendo nel mondo e dargli quindi sul piano politico un'organizzazione quindi le motivazioni scaturiranno dalle ricerche personali che potranno tra loro comunque dialogare e confrontarsi e anche questo può essere un lavoro politico ma pensate che bello che sarebbe se a Roma che ha tra l'altro l'amministrazione 5 Stelle si incominciassero a fare degli eventi culturali un po' meno narcisistici di quelli che ci tocca ancora vedere che Dio solo sa mi dovrebbero pagare ma come facevano gli arabi a peso d'oro cioè mi devono pesare e mi devono dare tanto d'oro per andare ad una di queste kermesse di letterature che girano per Roma non so non so voi ma per me mi devono pagare come mi dovrebbero pagare a ogni riga di tanti libri pubblicati quanto mi dai ogni riga per leggerli quindi pensate che bello se a Roma si organizzassero degli eventi culturali su questi temi quali sono le varie manifestazioni di ricerca di disalienazione contemporanea di spiritualità di contestazione psico-spirituale dell'omologazione della chiacchiera anche letteraria filosofica del nulla aspettiamo speriamo che il Movimento 5 Stelle sul piano politico possa diventare una riete dirompente in questo perché guardate che lì poi c'è la ricaduta politica perché la politica come si sa è fatta di idee è fatta di idee entusiasmanti poi è chiaro che ognuno di noi vuole la pulizia della monnezza sotto casa o vuole giustamente che un trattato internazionale venga valutato e magari confutato certo ma se non c'è qualche cosa che poi ci infiamma la visione che ci fa sperare l'uomo è fatto così siamo fatti male noi vogliamo sperare in grande e quando non speriamo in grande diventiamo stanchini e ci perdiamo la motivazione quindi dobbiamo ritrovare tutti i giorni una fortissima motivazione in una fortissima speranza coniugando il lavoro interiore il lavoro dei gruppi e l'azione politica questo è il mio augurio grazie a tutti 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 grazie a tutti